L'Alba Verde cala il poker di vittorie e sbanga torretta di crucoli nella giornata in cui tutte le dirette avversarie vincono incontri contro squadre di bassa classifica e le pallavoliste nissene lanciano un preciso messaggio al campionato. Nella lotta per la B1 la formazione nissena c'è. In un campo difficile contro una fidelista guerrita la compagine nissena si è imposta per 1-3 al termine di una gara rocambolesca e combattutissima. In casa Alba Verde non può non essere sottolineata la crescita del gruppo nella gestione della difficoltà con la guida tecnica che ha cercato e trovato le soluzioni grazie anche ad una panchina lunga. Ad 8 gare dal termine della stagione cresce l'autostima del gruppo e l'appuntamento adesso è per sabato 11 marzo quando al pala Canizzaro l'Alba Verde incontrerà la Stefanese per cercare la quinta vittoria consecutiva. Volley Serie B2 Girone M 18 giornata Gioiosa Stefanese 3 a 1 Fidelis Torretta Alba Verde 1 a 3 Ardenz Comiso Cuscatania 0 a 3 Planet Pallavolo Crotone 0 a 3 Bricositi Funivia Etna 1 a 3 Seragena Zaffariana 0 a 3 Volley Region Procorie di Cina 0 a 3 La classifica Zaffariana 47 Pallavolo Crotone 44 Alba Verde 43 Procorie di Cina 39 Fidelis Torretta 36 Gioiosa e Cuscatania 33 Saracena 25 Funivia Etna 24 Volley Region 21 Bricositi 13 Stefanese 9 Ardenz Comiso 7 Chiude Planet a 4